pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati il venerdì santo siamo chiamati a contemplare più intensamente la passione del signore non tanto per compatirlo quanto piuttosto per amarlo e imitarlo vogliamo soffermarci su una immagine sull'immagine dei chiodi che ci aiuta a riflettere sul mistero del dolore i chiodi sono elemento materiale e quasi segno plastico di tanto male che si è abbattuto su gesù e del dolore che ha dovuto attraversare per noi questo ci dice innanzitutto che siamo chiamati a riconciliarci con il dolore presente nella nostra vita sì perché che lo vogliamo o no prima o poi il dolore bussa alla porta della nostra esistenza una persona amata muore il figlio o la figlia prendono altre strade da come speravamo un conflitto irrisolvibile in famiglia o sul posto di lavoro una malattia che ci consuma soffriamo per via di noi stessi perché non corrispondiamo alle nostre aspettative o perché vediamo distruggersi i sogni di una vita guardando al dolore di gesù possiamo riconciliarci con il nostro dolore il dolore ha diritto di esistere mi viene incontro e come ha detto anselm grun mi sfida a volgere gli occhi ad una nuova immagine di dio come gesù meritando la passione del signore noi possiamo scoprire che dio non è lontano dal nostro dolore ma anche lì si rende presente anche lì egli cammina con noi e allora in lui possiamo scoprire che il nostro dolore trova senso noi possiamo unire le nostre sofferenze alle sue facendo sì che il nostro dolore diventi strada di crescita di salvezza per noi e per tanti tante volte noi pensiamo com'è arrivare a dio quali metodi usare per pregare meglio per poter sentire più in noi la sua presenza e la sua vicinanza desideri buoni legittimi ma non dimentichiamo che il primo luogo dove vivere la vicinanza con dio è proprio la nostra vita così come lui ce la offre con le sue gioie ma anche con i suoi dolori dunque la prima cosa è riconciliarci con la nostra vita e immergerci nelle situazioni che essa ci offre questo non significa andare in cerca del dolore ma significa che davanti alle cose difficili della vita ho una possibilità non solo subirle non solo accettarle passivamente ma accoglierle e crescere attraverso di esse allora potrò scoprire che proprio il dolore distrugge il mio ego che vorrebbe tutto per sé che vorrebbe usare anche dio per sé non solo miei cari guardando gesù inchiodato ad una croce tutto ciò sarebbe incompleto se il nostro dolore mosso dall'amore non diventasse compassione nei confronti del dolore degli altri noi siamo chiamati a schiodare dalla croce la carne sofferente di cristo quantomeno allenire la sofferenza di tanti che il signore ci mette accanto quante volte purtroppo inchiodiamo gli altri l'inchiodiamo con i nostri giudizi con le nostre parole taglienti l'inchiodiamo con la nostra indifferenza l'inchiodiamo alla povertà con la nostra mancanza di generosità non dimentichiamolo noi non siamo chiamati a mettere in croce gli altri e neanche a lasciare sulla croce gli altri siamo chiamati a schiodare dalla croce la carne di cristo che soffre in tante persone a cominciare da quelle che abbiamo accanto miei cari se come gesù ci lasceremo crocifiggere dal dolore e ci lasceremo interpellare dal dolore degli altri allora sì che potremo sperimentare che la croce ci apre a dio e alla vita vera buona meditazione dunque e buon venerdì santo e che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti